siamo entrati nell'epoca letta lo so siamo se ci pensate in un momento politico strano talmente nauseati che anche i cavalli di ritorno ci provocano sussulti del resto se ci pensate già da un po ci siamo ridotti a rimpiangere la prima repubblica i suoi protagonisti vista la consistenza delle repubbliche venite dopo politicamente la notizia dico per condensarla in una frase è questa enrico letta è stato votato all'unanimità segretario da quelli che nel 2014 lo cacciarono e badate bene i protagonisti sono sempre gli stessi travestiti mimetizzati nella parte dei convertiti sempre loro però nel momento storico in cui tutti i leader di partito si accodano lo smussamento rivenduto come buona educazione quando invece solo insana pavidità politica enrico letta ha deciso nonostante lo dipingano tutti come un anacquato di essere smodato e di porre questioni che gli altri nel frattempo in questi anni avevano finto di dimenticare i punti che ha posto all'assemblea del partito democratico sono aria fresca rispetto allo stantio parlare a cui eravamo abituati e avere il coraggio in un momento come questo di parlare di ius soli spazza via molte delle giustificazioni che si sono sempre adottate quando c'era altro a cui pensare ve lo ricordate quando si diceva che le priorità erano altre quando c'era paura di prendere posizione per non perdere voti quando sembrava addirittura una bestemmia prendere su questo tema di petto salvini e le sue politiche nella nazione in cui si celebrano le arance perché sono italiane le auto perché sono italiane le magliette fabbricate in italia il mangiare italiano ecco gli unici non italiani sono rimasti i bambini nati in italia anche il voto ai giovani è un tema che attraversa da anni tutta l'europa che finalmente è arrivato qui da noi si può essere d'accordo si può o meno ma aprire un dibattito comunque doveroso anche sui giovani come spesso accade si ascoltano sempre gli adulti a dare lezioni poco altro comunque in una democrazia matura che i partiti di qualsiasi colore riescono a trovare una leadership all'altezza è l'auspicio di tutti gli elettori indipendentemente dalle proprie sensibilità politiche quindi nella fase delle parole che è la fase assolutamente più semplice c'è da dire che letta nella fase delle parole ha avuto il coraggio di osare c'è un piccolo particolare però tanto per non cadere in faccia gli entusiasmi l'ha raccontato benissimo ieri civati in un'intervista repubblica sentite dice civati sono almeno dieci anni che tutti i leader del pd parlano degli ussoli lo abbiamo fatto no la verità è che la sinistra del pd non c'è più sono tutti i democristiani non c'è la sostanza non c'è il conflitto è un partito di sistema io spero tantissimo che letta l'abbia imparato e che riesca a rompere gli schemi ecco appunto buon lunedì